Prima imparo l'italiano, poi comincio a parlarlo con altre persone e ad ascoltare materiale in italiano, giusto? Sbagliato! Vediamo insieme perché! Ciao a tutti e benvenuti su Lingua Franca, sono Mattia e ogni settimana carico nuovi video dedicati alla lingua italiana e alle lingue in generale. Se questi argomenti vi interessano, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella, così da non perdervi i prossimi video! Molte persone mi hanno chiesto quante ore sia necessario studiare l'italiano ogni settimana o ogni giorno. Nonostante sia una domanda legittima, ha un grande problema di fondo. Molto spesso, infatti, le persone che stanno imparando una nuova lingua tendono a dividere il tempo in tempo di studio e tempo in cui non studiano. Questo non significa, ovviamente, che si debba studiare sempre, senza interruzioni, ma solo che c'è un metodo molto più efficace che vi permetterà di rendere lo studio dell'italiano più rapido e più piacevole. Si tratta di un concetto fondamentale che purtroppo viene sottovalutato molto spesso, l'esposizione alla lingua che state imparando. L'esposizione ha un'efficacia incredibile e, se imparerete a usarla al meglio, vi sarà molto utile nel vostro percorso. Tutti noi, da bambini, abbiamo imparato la nostra lingua madre principalmente attraverso l'esposizione. Ascoltavamo i nostri genitori, i nostri parenti e le altre persone intorno a noi parlare e, pian piano, provavamo a ripetere ciò che avevamo sentito. Ovviamente avevamo un grande vantaggio, non avevamo nient'altro da fare. Eppure, nonostante dedicassimo praticamente tutto il nostro tempo, anche senza saperlo, all'apprendimento della lingua, ci abbiamo comunque messo cinque o sei anni per impararla. Oggi, da adulti, potete sfruttare l'esposizione in maniera molto più efficace, perché non sarà più l'unico metodo che userete per imparare l'italiano, ma solo un potente strumento aggiuntivo. Prima di tutto, cosa si intende con esposizione? Chiamiamo così qualsiasi momento in cui siete esposti alla lingua che state imparando, in qualsiasi sua forma. Quindi, per esempio, siete esposti all'italiano quando ascoltate una radio o guardate un video su YouTube in quella lingua, proprio come state facendo adesso. Ovviamente sarà necessario continuare anche a studiare in maniera più strutturata, ma moltissimi studi dimostrano che con l'aumentare dell'esposizione alla lingua anche al di fuori dei momenti di studio strutturato, l'apprendimento diventa più veloce e più semplice. Quindi è importantissimo cercare di ottenere più esposizione possibile alla lingua italiana, così da migliorare l'apprendimento. Ma come si può fare? Ci sono molti modi di essere esposti alla lingua che state imparando e oggi ve ne mostrerò alcuni. Se ne conoscete altri, ditemelo in un commento qui sotto. Magari in futuro farò un altro video dedicato all'esposizione. Come esporsi alla lingua italiana? Il miglior modo in assoluto di esporsi alla lingua italiana e, molto semplicemente, vivere in Italia. Se è possibile, passare anche solo pochi mesi in Italia vi aiuterà enormemente nel vostro percorso. Però non è detto che tutti abbiano il tempo o le risorse per poterlo fare. Inoltre non siamo nel momento migliore per programmare grandi viaggi, quindi concentriamoci su altri metodi. Credo che l'esposizione si possa differenziare principalmente in due categorie, l'esposizione attiva e quella passiva. Partiamo da quella attiva. Per esposizione attiva intendo tutti i momenti in cui siete esposti alla lingua italiana e dovete prestare il 100% della vostra attenzione. Tra i modi per esporsi alla lingua in maniera attiva troviamo, per esempio, guardare serie tv o film in italiano, leggere articoli o libri in italiano, guardare video su YouTube sia dedicati all'apprendimento della lingua italiana sia video di altri youtuber in italiano. A proposito, vi piacerebbe un video in cui vi consiglio youtuber italiani che parlano di diversi argomenti? Fatemelo sapere in un commento qui sotto! Potete anche verificare se nella vostra zona esistono degli incontri regolari sia dedicati allo scambio linguistico tra la vostra lingua madre e l'italiano sia di gruppi di madrelingua italiani che si incontrano per qualche altro motivo. Tutti questi metodi di esposizione attiva sono utilissimi e vi consiglio di provare a usarli tutti, ma hanno un grande difetto, richiedono molto tempo. Per questo è importante usare anche altri metodi che vi permettono di esporvi alla lingua italiana in modo passivo. Tra i miei preferiti troviamo sicuramente l'ascolto di audiolibri. È vero che dovete prestare attenzione e ascoltare il libro, però potreste ascoltare in italiano un libro che avete già letto o ascoltato nella vostra lingua madre. Magari mentre cucinate, guidate o fate le pulizie di casa. Se non vi piacciono gli audiolibri, nelle stesse occasioni potete ascoltare una radio italiana online, possibilmente una radio in cui ci siano anche degli speaker che parlano e non solo musica. Un altro metodo ottimo per esporsi passivamente all'italiano è cambiare la lingua di tutti i vostri dispositivi e social network in italiano. Questo non dovrebbe causarvi troppi problemi nell'utilizzo di questi strumenti e giorno dopo giorno assorbirete molte parole nuove nel vostro vocabolario italiano, associandole alle funzioni che usate più spesso. Un altro trucco, che richiede solo qualche secondo in più al giorno ma dà poi risultati per molto tempo, consiste nell'usare dei post-it scrivendoci sopra il nome di oggetti e parti della casa in italiano, attaccando poi i post-it sugli oggetti corrispondenti. Non dovete fare da subito decine di post-it diversi. Provate, per esempio, ad aggiungere anche solo uno o due nuovi post-it al giorno e in poche settimane avrete sotto agli occhi tantissime nuove parole in italiano. Anche la musica è ottima! Cercate però di ascoltare canzoni in cui la parte vocale sia chiara, evitando musica in cui gli strumenti coprono completamente la voce. Ricordatevi anche che spesso nelle canzoni gli accenti e il ritmo sono molto diversi da come le persone parlano nella vita vera. Naturalmente dovete utilizzare del materiale di un livello adatto a voi. Non è assolutamente necessario che comprendiate ogni singola parola perché l'esposizione sia utile, ma assicuratevi di capire almeno l'argomento generale di cui si parla. Quindi il consiglio generale è di esporvi il maggior numero di ore possibili alla lingua italiana, sia attivamente che passivamente. Vedrete che questo vi aiuterà ad abituarvi al suono e al ritmo della lingua italiana e questo vi permetterà di capire molto meglio ciò che sentite o leggete, aiutandovi anche a ingrandire il vostro vocabolario. Quando poi avrete finalmente l'occasione di parlare con dei madrelingua italiani, sorprendeteli con queste frasi perfette per iniziare una conversazione. E se questo video vi è piaciuto, aiutatemi cliccando sul pollice in su qui sotto! Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video! Buon italiano a tutti!